Il martirio di Stefano e l'incredulità dei discepoli di Emmaus hanno guidato la riflessione del Papa nell'omelia della Messa del Mattino a casa Santa Marta. Commentando la prima lettura, tratta dagli Atti degli Apostoli, il Pontefice ha sottolineato l'obbedienza di Stefano e la chiusura di Chilo Lapidò, persone lontane dalla verità e animate solo dalla furia. I discepoli di Emmaus invece erano timorosi, ha aggiunto, con dei limiti ma buoni. A far soffrire la Chiesa, ha detto il Papa, sono i cuori chiusi, i cuori di pietra, i cuori che non vogliono aprirsi, che non vogliono sentire, i cuori che soltanto conoscono il linguaggio della condanna, che non chiedono spiegazioni, cuori testardi e pagani che sentono di bastare a se stessi. In loro manca lo Spirito Santo che invece rese Stefano testimone dell'obbedienza del verbo fatto carne. E oggi guardiamo questa tenerezza di Gesù, il testimone dell'obbedienza, il grande testimone di Gesù, che ha dato la vita. Ci fa vedere la tenerezza di Dio, confronto a noi, ai nostri peccati, alle nostre debolezze. Entriamo in questo dialogo e chiediamo la grazia che il Signore ammorbidisca un po' il cuore di questi rigidi, di quella gente che è chiusa sempre nella legge e condanna tutto quello che è fuori di quella legge. Non sanno che il verbo è venuto in carne, che il verbo è testimone di obbedienza. Non sanno che la tenerezza di Dio è capace di spostare un cuore di pietra e mettere al suo posto un cuore di carne.